Gesù è il figlio dell'uomo che ha incarnato la divinità ed è il primo uomo della terra che è arrivato a questo ed era nell'Atlantide, lui si chiamava Ori e due suoi fratelli che erano Nibiru che era Giovanni Battista e Barat che era Giovanni l'Evangelista, erano tre iniziati dell'Atlantide il cui compito è stato da Dio, gli è stato affidato di guidare l'umanità fino all'instaurazione del regno. Non sono mai andati via, anche adesso gli apostoli sono tutti incarnati, si chiamano Pasquale, Natale, Giuseppe, ma sono incarnati gli apostoli e anche il Battista è incarnato.